Per quanto riguarda l'acqua, cresce il ricorso dei cittadini toscani alla conciliazione extragiudiziale, soprattutto per fatture e addebiti per perdite occulte a valle del contatore. Lo rendono noti tre soggetti a disposizione degli utenti, Difesa Civica Toscana, Autorità Idrica Toscana, AIT, e Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente, ARERA, che hanno organizzato una tavola rotonda a Firenze per presentare i dati dell'attività svolta nel 2023. Su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del Difensore Civico, quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Il servizio di conciliazione, sempre gratuito, è lo strumento a disposizione degli utenti da attivare in caso di controversie o di servizi con il proprio fornitore idrico. AIT e ARERA sono i soggetti a cui i cittadini possono rivolgersi con procedure attivabili direttamente online, Tutto questo grazie a un finanziamento europeo che ha consentito di digitalizzare le procedure di gestione del contenzioso di fronte all'autorità idrica toscana. Consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione, con un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro.